salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo video voglio fare un giveaway vi voglio regalare the sims 4 get famous quindi 9 stelle quelle che vedete qui sono le regole sono semplici sono veloci ovvero essere iscritti al mio canale mettere mi piace al video mi sono dimenticato di metterlo in immagine 2 commentare con partecipo e cosa vi piace dell'espansione per esempio io adoro il fatto che si possa che si può diventare influenza ragazzi è una volta bellissima facoltativo se volete potete condividere il video aiuta di più a favorire il giveaway l'estazione sarà il 10 dicembre 2020 quindi avrete a disposizione fino al 9 dicembre per poter partecipare partecipate numerosi vi aspetto ciao